Una donna colombiana di 47 anni è stata arrestata dagli agenti del commissariato di Olbia per spaccio internazionale di droga. L'attitante del 2016, quando era stata condannata dal tribunale di Tempio, l'extracomunitaria è stata rintracciata nel quartiere di Olbia Mare dagli uomini della polizia dopo lunghi appostamenti fino all'irruzione nel suo appartamento. Il mandato di cattura nei confronti della narcotrafficante risale appunto al 2016, quando i giudici stabilirono il ruolo apicale della donna in un vasto traffico di cocaina che dalla Colombia transitava per la Spagna fino al capoluogo. I suoi compiti specifici erano di organizzare la logistica dei viaggi dei corrieri che di volta in volta sulla tratta Medellin-Barcellona-Olbia venivano retribuiti per tale scopo. La 47enne, dopo le formalità di rito, è stata condotta presso la sua abitazione di Olbia dove dovrà permanere in regime di detenzione domiciliare come previsto dalla misura a suo carico.